Con l'attività sportiva, con il calcio in particolare, si parla tutti la stessa lingua, le stesse regole, si gioca tutti nello stesso modo. Torna Bergamondo in settima edizione. Il torneo di calcio è rivolto alle comunità di immigrati residenti in Bergamasca. Organizzato dal CSI, promosso dall'Eco di Bergamo con la collaborazione del Credito Bergamasco e quest'anno anche della CISL. La presentazione si svolgerà venerdì 3 maggio alla Casa dello Sport. Lo spirito di Bergamondo è sicuramente quello di far ritrovare le realtà, le comunità di stranieri che sono presenti sul territorio bergamasco per lavoro e che trovano in questo momento naturalmente un momento di aggregazione, un momento di mettersi in mostra e credo che sia anche un bel momento per dimostrare da parte dei bergamaschi l'accoglienza verso queste persone che sono qua, praticano attività sportiva. Mancano ancora pochi giorni per il 13 aprile, giorno di chiusura delle iscrizioni di Bergamondo, in vista del fischio d'inizio che sarà domenica 12 maggio. Siamo alla settima edizione e credo che il successo delle altre edizioni ci consiglia di riportare pari pari quello che è stato fatto fino adesso, almeno per il torneo tradizionale. Poi dopo quest'anno c'è la novità di una coppa per un torneo giovanile fatto solo per i ragazzi under 16 che parteciperanno anche loro a questa iniziativa.